Con l'indicazione dei due assessori del nuovo centrodestra si chiude il cerchio nel rimpasto della giunta comunale di Rende. Il soggetto politico guidato nella città del Campagnano da Gianfranco Ponzio ha scelto Giuseppe Savino e Antonio Vilardi, quali elementi rappresentativi dell'area popolare nell'esecutivo guidato da Marcello Manna. A Savino, ingegnere che vanta collaborazioni anche con l'architetto Renzo Piano, andrà la delega all'urbanistica. Antonio Vilardi, il cui nome è stato calveggiato in particolare dal coordinamento giovanile di NCD, è un economista esperto in diritto amministrativo. Ricoprirà la carica di assessori alle attività produttive. L'assegnazione delle deleghe non è stata ancora ufficializzata dal sindaco. Nei giorni scorsi Manna aveva nominato Pino Munno ai lavori pubblici e Pierpaolo Jantorno al bilancio. Entrerà a far parte della giunta anche Anna Maria Artese. Certa la riconferma di Marina Pasqua. In bilico, invece, la posizione di Ida Bozzo. Nella prossima seduta della Sese Comunale si procederà anche all'elezione del Presidente del Consiglio. Anche questa carica andrà ad un esponente del nuovo centrodestra, Mario Rausa, in pol, per la prestigiosa poltrona. Salvatore Bruno per la Cineus 24.